Nella mattinata di ieri una trentina di alunni della scuola Olivieri sono rimasti a casa come voluto da genitori che hanno più di un dubbio sulla stabilità dell'immobile di via Confalonieri già ammalorato prima dello sciarme sismico di questa settimana. Genitori che lo hanno manifestato con un sit-in apparecchiato per chiedere chiarezza dopo l'incontro dell'8 novembre col comune che ha avviato una perizia tecnica ulteriore sulla stabilità dell'edificio. Perizia i cui risultati non saranno però disponibili prima di gennaio. L'insicurezza percepita dalle famiglie ha così portato nel Consiglio Comunale di ieri sera a produrre una mozione d'urgenza a firma dei consiglieri Marchionni, Gambini, Redaelli, Andreolli dall'Aste Malandrino, una mozione che invita a valutare il trasferimento degli alunni ad altro edificio in attesa di verifiche ulteriori. Il desiderio è oltre a comprendere, cercare di veicolare il messaggio più chiaro possibile alle famiglie e soprattutto chiedere anche la possibilità di velocizzare nel procedimento delle nuove perizie che sono state incaricate valutare qualora se ne rendesse la necessità, quindi qualora ci fosse una reale esigenza, lo spostamento di queste classi anche in maniera temporanea durante i sopralluoghi che verranno fatti e durante questo periodo in cui nuove relazioni tecniche vengono redatte. Io credo che evitare l'allarmismo ma cercare di dare trasparenza, chiarezza e soprattutto rassicurare le famiglie con documenti alla mano che comprovano la reale situazione dei luoghi sia fondamentale e sia anche un dovere. La mozione è stata respinta col voto contrario di 17 consiglieri su 7 favorevoli. Mozione sulla quale l'assessore Pozzi ha argomentato i doveri di trasparenza che reputano quella scuola sicura proponendosi ad ulteriori occasioni di chiarimenti con le famiglie. Ci siamo impegnati ad effettuare un ulteriore approfondimento, un ulteriore approfondimento che nell'ultimo incontro, quello che si è tenuto all'8 di novembre, ci siamo impegnati ad anticipare quei tempi, viste le preoccupazioni, proprio per cercare di tranquillizzare quelle che sono, ripeto, delle preoccupazioni comprensibili ma non fondate e ci sono oggi tutte le condizioni per dire che quella scuola non è in una situazione peggiore rispetto a quello che è un dato. Oggi il quadro generale dell'edilizia scolastica di questo Paese, non di Pesaro, dell'Italia in generale, se lo rifacciamo a quelle che sono le normative sismiche attuali, le scuole che sono, rispondo alle normative sismiche attuali sono il 7%, questo non è un dato certamente di cui andare orgogliosi e non è neanche un dato sulla quale questa amministrazione non sta facendo nulla. Rispetto alla mozione, quindi ora se fossi un consigliere sinceramente rifacendomi alle sue richieste, quindi a quella di rispondere con chiarezza, noi abbiamo cercato di farlo nella massima trasparenza e nella massima disponibilità, l'abbiamo fatto, come dicevo, nell'occasione dell'incontro che si è tenuto in quest'Aula, in occasione dell'incontro che è stato promosso dal dirigente scolastico nel Consiglio d'Istituto dell'8 di novembre, siamo disponibili insieme anche all'assessore Murgia a partecipare anche a un'assemblea con tutti i genitori perché si faccia chiarezza e la chiarezza lo si fa nei modi e nelle sedi giuste e non lo si fa con dei picchettini davanti a scuola con i giornalisti, ma lo si fa anche con documenti come questo. Il terzo punto nel quale appunto chiede di individuare delle soluzioni alternative e noi ci rifacciamo a quelle che sono le informazioni che ci sono, che ci consentono di dire che la scuola oggi è sicura ed è agibile e su questo mi rifaccio a quello che era l'appello che ha fatto il sindaco alla responsabilità e quindi ad affidarci a quelli che sono dei professionisti che in questo momento hanno la qualifica per poterci dire cosa e come comportarci.